Rai che voi lo sentite? She's like a diamond! Oggi abbiamo intrapreso una missione a Animal Animale e noi la porteremo alla fine. Scemo, ti va in diabete! Mamma, per Natale mi regali un elytra, ti prego. Torniamo a casa in qualche modo. Animal Animale, benvenuti in questo nuovissimo episodio del Mates in Minecraft. Vi volevo ricordare che domenica 17 dicembre io e Mates saremo all'ingotto fiere a Torino per l'Xmas Comics and Games dalle 11. Sarà l'ultimo evento dell'anno, quindi vi aspetto in tantissime e ci saranno anche le magliette nuove. Ora vi lascio al video, buona visione. Io trovo gli amanti più blu. Bidi 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 bidi. Eh sì, oggi partiremo per un lungo viaggio. Non ho trovato la corona, ma resto comunque un fuoriclasse. Vero Jack? Dai mi stai cinque. Buona tutta ragazze e ragazze, sono Anime e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo tornati in un nuovissimo episodio da Mates in Minecraft che vedo che vi sta piacendo tantissimo, sono veramente euforico. Ogni episodio sarà sempre al massimo. Prendere questa serie speciale ed unica. Sono successe un po' di cose, i bug nel nether, io che per sbaglio ammasso suri. Andate a vedere gli altri episodi se ve li siete persi. E perché ho detto che oggi partiremo per un lungo viaggio? Perché intanto, beh, poi mi sono preparato il mio zainetto, cappellino. Un attimo da parte che è tanto dicembre. Meglio le cuffiotte, ah, che tengono caldo. Partiamo come sempre dalla nostra base. E oggi andremo a fare delle cose veramente fighe. Vi faccio un piccolo riepilogo. Cerco in ogni caso di giocare il meno possibile. Perché voglio fare le cose con voi. Però alcune cose mentre farmo, mentre sistemo l'episodio dopo, mi porto un filo avanti perché magari certe cose farvele vedere in un secondo è meglio che farle, proprio crearle insieme a voi. Come potete vedere ho creato delle scale e l'ho fatto anche di qua. Non le ho messe giù di qua perché poi vorrò fare, appena sarà possibile, visto che questa non è la mia base ma sarà una miniera appunto, farla tutta in tema miniera. E qua mettere giù i carrelli che scendono, quindi da questa parte giù i carrelli. E di qua sono le scale per salire più velocemente, perché per scendere do le zuccate. C'è sempre il letto degli ospiti che rimarrà bianco, mentre quello che avevamo fatto verde, che però non ci piaceva, mi avete dato un miliarde di consigli nei commenti, dicendo appunto di farlo verde lime, che è appunto un verde più bello. Adesso perché questo letto lo trovate bianco? Perché l'ho recuperato da in fondo. Quindi il letto verde l'ho portato giù di sotto, lo vedrete poi. E quello che era bianco l'ho riportato su. Questo perché? Perché non è possibile colorare i letti già colorati. Se vedete che perdo la voce durante l'episodio è perché sto male all'influenza. Penso che ce l'abbiate un po' tutti. Nel senso, magari scrivetemelo se ce l'avete. Quindi mi sono andato a procurare il colorante lime, che appunto mi avete detto che si fa con la farina d'ossa e il colorante verde del cactus, cuocendolo. Quindi noi ci prendiamo un attimo il letto e possiamo direttamente qua senza la crafting table andare a colorare il letto con... Oh, eccolo qua. Letto lime. Bello tropicale qua. Badem! Ok, direi che questo è un verde molto molto più bello. Quindi grazie mille per i consigli. Continuate a darmene tantissimi nei commenti. Ora, che cosa vi volevo far vedere da questa cesta? Ho trovato già tempo fa, non adesso, un altro libro che aveva Fortuna 2, ma non sapevo che unire due fortune 2 portava Fortuna 3. Insomma, sono tutte cose che sto imparando insieme a voi. Quindi volevo innanzitutto andare a prendere il nostro piccone diamante, andare a metterci Fortuna 2, così che lo portiamo appunto, come potete vedere, a Fortuna 3, che secondo Surry era meglio Fortuna 2, però in una vecchia versione si diceva che era più buggata Fortuna 2 che Fortuna 3. Quindi trovare più diamanti con Fortuna 2. Smentito però da Stefanino dicendo che no, Fortuna 3 è un'altra cosa. Lo scopriremo adesso. Perché? Facciamo un attimo giù un salto in miniera e vi faccio vedere che cosa ho trovato off camera. e soprattutto vi spiegherò perché ho ancora 61 livelli di esperienza. Avete visto appunto che qua c'è il letto verde, quello che insomma faceva schifo. Ora non puoi riposare, il letto è troppo distante. Cioè, mi potrei tranquillamente cacciare a pesce da qua e infilarmi addirittura sotto le coperte. Cioè, guardate. È troppo distante dal letto. Scemenze a parte. Adesso vi riprendo il nostro libricino. Che perché è nostro, non è solo mio. E vi faccio vedere tutte queste coordinate che tanto non potranno copiarmi gli altri perché verranno prese adesso. Sono precisamente 11. Facciamo come Surry. Non guardiamo quanti diamanti prendiamo. Lo vediamo alla fine solo per, proprio per curiosità. Ok. Già ne ho visti volare 85.000. Eccoli qua. Trovati gli altri. Oh, voilà. Qui erano sei, mi pare. Che cose belle. Oh, guarda. Poco più avanti ce ne sono altri. Presi. Presi. Oh. Si scava tutto. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Cavolini. She's like a diamond. Chiaramente con questi diamanti nel prossimo episodio andremo a fare l'armatura di diamante e la incanteremo pure. No, perché non facciamo solo una cosa noi. Non ci sarà mai un episodio normale in questa serie. Oh, ucciucci. Qua ne vedo ancora. Qua erano solo quattro. Che poverata. Da questa parte dovrebbe esserci un altro. Eccolo qui. Sono otto qua. Otto. Che dovrebbe essere il massimo. Almeno io più di otto non ne ho mai trovati. Quindi. Magica bula. Magno la tuga. Bidi 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 bù. Io trovo il diamanti più blu. Bidi 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 bù. solo quattro. Ok. E adesso andiamo dalle ultime due, che erano tra l'altro le prime che avete visto nel secondo episodio. Quelle nella caverna enorme. Voilà uno l'ho trovato Infatti era ok infatti Tutto combacia con il mio ragionamento Che era dove stava tutto L'ambaradam qui E l'altro per giustezza dovrebbe stare in fondo qua Siamo avanti tutto il percorso Eccoli lì Cioè raga non so se vi rendete conto 11 spot di diamanti Con fortuna 3 Non vedo l'ora di scoprire quanta roba ho Allora anima animale siamo pronti E' un momento importante Magari poi faccio una figuraccia schifosa Però il momento importante è questo Uno Due Bam Oh mio dio raga Due stack e un diamante 129 diamanti Ora con molta tranquillità ce ne torniamo in alto Li mettiamo magari in un posto sicuro Ah ok li mettiamo insieme agli altri 11 Che avevano trovato probabilmente nel nether Ok Mamma mia che benessere Ma cos'è questa armatura di ferro che schifo Dal prossimo episodio ci upgradiamo E spero che mi passi anche Influenza E adesso passiamo al clou dell'episodio Come mi avete scritto Con i consigli per i regali da dare agli altri mates Abbiamo Insomma abbiamo ma poi ho scritto Quindi ho stilato Che cosa potremmo regalare A Sori potremmo regalare comunque un arco Bello potenziato Che ci sta A Giuseppe che è una talpe Il re delle talpe Comunque sta anche in cima alla mentagna Da quanto ho capito Gli regaliamo un bel piccone E a Stefanino visto che ha anche Lui una farm di pesca come me Ma non è mai andato nel nether Potremmo regalargli altri oggetti Sia che ho trovato nel nether Ma anche altre cose che vedrete adesso Che secondo me gli possono interessare Perché ho guardato i suoi episodi Ho visto che deve far arrivare tipo la terra Dalle mu... Dalle pecore Quindi ho anche un blocco di terra Gli voglio anche regalare Pensate Cosa mi tolgo ragazzi Cioè Qua voglio un like Cosa mi tolgo dalle mie tasche L'unico enderman che ha ucciso Mi ha dato una perla di ender Voglio dargli anche una verga di blades E l'ossidiana Per farsi la sua prima Ender chest Che non ho neanche io ancora E che quindi gli può dare la possibilità Di nascondere tutte le cose più preziote Io so che facendo questi regali Insomma avete capito che Mi faccio un po' amici tutti Ovviamente però non regalerò una spada a nessuno Perché Devo essere io quello più forte del server per ora Quindi devo mantenere la gerarchia Perché qua siamo tutti amici Ma l'infamia è dietro l'angolo Lo sapete Andiamo a prendere lo corrente Allora prendiamo l'arco Che è questo qua Prendiamo i libri per il piccone Aggiungiamo anche una canna da pesca Che è quella forte come la mia Non ha indistruttibilità Ma comunque ha ripristino La fortuna del mare 3 Esca 3 E invece tutta la roba per Stefanino Ce l'abbiamo di là Ma secondo me gli posso anche dare gli smeraldi Visto che è il mio colore Sono un remaggio molto altruista Si ricorderà di me con quel colore Bene visto che ci siamo riempiti l'inventario Ma ci servirà altra roba Iniziamo a fare quello che ci serve Allora partirei dall'arco Ho preso un arco con indistruttibilità 3 Potenza 4 e infinità Li vorrei aggiungere comunque impatto Che non è male Quindi fare un bel archetto così E aggiungerci anche fiamma Che comunque è molto utile Quindi diciamo che È uscito un arco decisamente forte Come potete vedere Comunque è buono Sicuramente da migliorare Ma potrà migliorarselo lui Per iniziare diciamo che Insomma meglio di un arco normale Chiaramente magari gli portiamo Avendo infinità comunque gli lascerò anche una freccia Così non avrà problemi Ora per Surry visto che mi ha aiutato Il piccone lo facciamo rigorosamente In diamante Anche visto che è morto Venendo alla ricerca nel nether con me Dei diamanti rano anche suo Di quelli che abbiamo trovato Quindi mi sembra giusto Condividerli con lui E fargli questo upgrade di diamante Quindi prendere questo qua Queste incudini 4 volte Ci dai 4 martellati Cioè più resistente alla mia sedia Che ha preso pure da anni Vero Jack Questa con 4 colpi così Si rompe Vabbè E con questo piccone di diamante Ci andremo a mettere Ripristino Indistruttibilità Questo libro non so Minimamente cosa ci faccia qua Infatti lo devo togliere Insomma dicevo Ripristino Indistruttibilità E efficienza 4 In più però Non lo monterò Io gli porterò anche Fortuna 2 Però a maledizione del legame Quindi io non lo unirò Vedrà lui Se aggiungercelo Purtroppo non avevo altri libri Con fortuna Che non avessero maledizione Quindi andiamo a unire Subito le cose Questo dell'operazione 5 Ma che saranno 5 livelli Ne abbiamo altri 47 E ovviamente anche efficienza Bam E anche il regalo di Giuseppino È stato fatto Piccone più libro Con fortuna Assuridiamo magari Anche la canna da pesca Visto che sicuramente Farà lui prima la farm Di Giuseppe E Stefano comunque Come potete ben vedere C'ha un ender chest C'ha il blocco di terra C'ha la luminite C'ha la sabbia C'ha le verruche C'ha il quarzo C'ha la netherrack Insomma E ovviamente dimenticavo Anche gli smeraldi Roba da non da poco Ma comunque lui è quello Che è più avanti nella serie Quindi ci sta Che abbia un bonus minore Ovviamente non andremmo a vuoto Perché ovviamente Mi sono fatto dare le coordinate Di tutte e tre I loro villaggi Così che io potessi arrivarci Senza troppa difficoltà Anche perché se no Andarli a cercare a caso Con tutta sta roba Nel inventario Insomma Mi piacerebbe che durante il tragitto Riuscissi a trovare un cavallo Per muovermi ovviamente Ancora più veloce Ed evitare appunto gli ostacoli Quindi ci siamo presi La sella Mi prendo anche una cassa Che non so se si può attaccare Il cavallo Ma io la prendo Non si sa mai La bardatura di diamante Che abbiamo trovato nel nether E infine Per addomesticarlo Lo zucchero Adesso io non so Quanto zucchero serva Ma ne prendiamo un bel po' Andiamo Visto che intorno a me Non ho trovato cavalli Ma solo mucche, maiale e polli Neanche le pecore E c'è un sacco di deserto Direi che potremmo passare Dal nether Per arrivare subito da Surry Visto che è molto più veloce E poi da Surry Andarci E migrare Verso gli altri due villaggi Ci prendiamo Un letto Che ce lo teniamo da parte Che ci servirà per dormire Da qualche parte E iniziamo Vedete inizio a svalvolare raga Non capisco niente Cioè io devo andare Dal portale del nether E sono sceso in miniera Comunque qua abbiamo Un foto di nether Enorme E di qua tantissimo Quarzo del nether Con la nostra lacrima Siete tutti Tranquilli Non c'è nessuno Tutti mi vogliono bene Poi vi porto un regalo Anche a voi eh Lo so che vi siete comprati male Ma vi porterò un regalo Sappiatelo Sempre mi steccozzo Mentre ci Teleportiamo Ok Surry Non c'è neanche Ma ti dirò Magari al ritorno Frego un po' di grano Tanto non è neanche suo Ci siamo? Sì Ok sì E questo qua è il paletto Che indica l'entrata Qua c'è il suo letto Quindi Cavolo Steppi mi sono andato la partita No Se arrivano nel suo villaggio Che c'è anche lui Non è una sorpresa Mi ha scritto Farmettino Diamanti Ricordino Cavolo lo sto registrando adesso No E dai eh Cacchio Gli mettiamo l'arco dentro A Surry E gli mettiamo anche La canna da pesca Tutto 10 È un regalo Anima Beh non si accorgerà nessuno Che il grano è sparito Dai Ne lascio uno Così lo può riprodurre Beh diciamo che a Surry Non penso Faccia schifo Che gli sto piazzando Delle torce Tanto gli possono solo Che servire E devo andare appunto Adesso in giro Con meno paura Se così possiamo dire Visto che tanto Gli scheletri Bene o male Adesso Muoiono con uno Due colpi Bene Che c'è un party qua Non sono stato invitato Ma come stia più abbandonato Ma doveva registrare Meno male Vabbè No si è riunito Ma perché non mi aiuta Nessuno qui Cioè voi non vi rendete conto Girare per notte Indificile In questa vanilla Che cosa vuol dire Tutti Gli scheletri Hanno gli archi incantati C'è qualche ragno Che addirittura È tipo Con le pozioni Cioè tutte Tipo le Le particelle intorno Come se fosse Come se avesse Delle pozioni intorno Moba non finire Scheletri con l'armatura Zombie con l'armatura Tutti che vanno malissimo E ci sono pure le streghe Raga voi lo sentite Sento puzza di bruciato qua Qualcuno sta prendendo fuoco Aaaaa E mo Aaaaa Allora adesso che giorno Se non erro Andando verso di qua Proprio dritti di qua Dovrebbe Eserci il Villaggio di Stefanino Cavolo se non ricordo male È vero Sury aveva attraversato l'acqua No Questo è un grande errore Che non ricordavo A sto punto Allora Rimiamo Che ve devo dire Praticamente noi dovremmo andare Da quella parte di là No Infatti ecco Ok il mare Va Vira dalla parte giusta Sono contento Allora facciamo così Visto che mi sa Che ci siamo allontanati Ma Raga Proprio Sapete cosa vuol dire Tanto ma tanto Ora noi cosa facciamo Buttiamo via Questa legna qua E ci teniamo Dove la spada Dove la mia spada No raga dove No non stiamo No raga mi sta venendo a sudare Dove la Cioè ogni Io sta spada è maledetta L'hai presa tu Oh No raga ho buttato via la legna Me ne sono reso conto Dove cacchio è la mia spada Dove assolutamente No 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 è vero Non posso dormire Non posso dormire Non posso dormire Dove assolutamente riprendere il largo Un attimino Sono completamente fottuto Cioè non so Non so come l'ho persa Perché non posso averla Cioè L'avete visto anche voi Io che non ce l'avevo più la spada Ce l'avete visto E prima me la fregano i pigman E poi mi scompare con una barca Lo sapete presente quando È l'arma che sceglie il padrone Ecco Quell'arma non mi voleva Una cazzo di arma forte tra l'altro Bene È diventata una missione Impossibile Alla Rambo Quindi appena arriva il giorno Io devo praticamente correre Nelle esatte coordinate di Stefano Prima che diventi buio Non so se si vede la tristezza Nei miei occhi Non potevamo tutti fare un villaggio insieme E vivere armoniosi e felici Mi avete abbandonato Nella mia prima vanilla E vi sto anche portando i regali Ci ho rimesso una spada Potrò stare nella casa mia A farmi i cazzi Una spada di legno Giusto per Per capire Oggi abbiamo intrapreso una missione Animalimale E noi la porteremo Alla fine A costo di perdere tutto Quello che abbiamo di nostro Ma almeno Avremo la pace nel mondo E la amazing minecraft Sapranno tutto Cosa ho fatto per i miei alleati Stay angry Stay happy Stay happy Ho trovato i chiciuchi E i cavalli Sì Voglio questo Ok Bene Allora facciamo che Io ti do lo zucchero E voglio che tu sia mio amico Magna Magna Te devi magnà No dai Ragazzi ho dato 17 zuccheri Scemo Ti verrà in diabete Forse funziona anche il grano Sì 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 Meno male che ho fregato il grano da surri Mettiamogli anche la bardatura Ok Così Verso l'infinito e oltre Poi ti darò anche un nome Testardo ti chiamerò Il problema è che Che in realtà è un grande problema Devo attraversare il mare Come faccio? Potrei forse avere culo E facendo il giro più lungo Riesco a tenere il cavallo Che sarebbe veramente Sarà una grandissima perdita Cioè guarda Ti vedono da Ti vedono da Kilometri Sti qua Ma potete farvi una barcata Dei cazzi vostri? Mamma Per Natale Mi regali un'elitra Ti prego Il volo non è permesso in questo server? Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire il volo non è permesso in questo server? Ragazzi io quando vi ho detto che questo server è bugato Non stavo scherzando Questo server è bugato Ho la brutta impressione animale animale che non si possa Oddio qua c'è un p Oddio sembra stato fatto Sembra stato creato sto pillar Devo assolutamente andare io praticamente laggiù Però non c'è possibilità A meno che appunto l'isola non Non me lo permetta via terra Mi sta cavallino che Io e te Dobbiamo abbandonare qua Ma se io lo ammazzo Riprendo la mia roba Magari non serve nemmeno E dai Ti ringrazio per avermi aiutato Ma non mi servi più Lo so non mi guardare con questa Con quella faccia delusa Alla prossima Vedo deserto Ed è un'ottima cosa Visto che Stefano sta lì Potremmo avere fortuna Siamo molto vicini direi Molto vicini E spero gli vada bene questo regalo Perché finalmente finché non avrò un'elitra Non tornerò più da loro A meno che non decideranno di fare il portale Tutti al nether Quello è un'altra cosa Sarà più veloce Non vorrei tirare a indovinare Ma dietro questa montagna Secondo me c'è il villaggio di Stefano Che cacchio è questo? Ci sono i lama Ciao bigolo Il villaggio di sotto Dovrebbe essere Qual villaggio di Stefano? Boh Io gli ho provato a scrivere Vedi mi ha risposto Qualcosa del genere Sì Ma come qualcosa del genere? Ma se ti chiede le coordinazioni del villaggio Vuol dire che devono essere giuste Una casa sull'albero Non era molto lontano da lì Ah visto che qua c'era il piccolo regalo di Surry Direi che da quest'altra parte possiamo mettere il mio Ok L'ossidiana L'ender per la polvere di Blaze Il quarzo Sabbia delle anime Le verruche Gli smeraldi Netherrack E il blocco d'erba I ganci per infilo da inciampo La polvere di luminite Un regalino di Natale Fanno buon uso Anima Io non ci credo E siamo a 2 su 3 Anzi 2 su 4 Perché dobbiamo tornare a casa Ora ragionando In realtà Giuse non è per niente lontano da Stefano Anzi sono parecchio vicini Quindi dovrebbe facilitare il tutto Io non so se potete prendere la faccia Di quando è iniziato l'episodio La faccia come adesso è tipo deforme Stanca Sudata Sporca Salutiamo il villaggio di Stefano E rimettiamoci in marcia Questo glielo facciamo trovare chiuso Così sa che qualcuno ci è passato Cavolo non vorrei già fossero ste montagne Ti immagini sarebbero veramente vicinissime le cose Papà c'ha una coordinata che è tipo 185 Vuol dire che è tipo In altissimo Guarda papà ti regalo pure le torce Così non ci avrai i mob vicino Poteva scegliersi A scegliersi un posto più accogliente papà eh Qua c'ha tutti la carogna addosso Mi sa che Dovremmo salire su per L'acqua Siamo sopra il livello delle nuvole Vi vorrei far capire Neanche se volesse ci vorrei rubare qua Cioè Anche se avesse Più roba di tutti Quanto ci vuole salire Ok siamo arrivati Non vi posso vedere cosa ha costruito Perché non è ancora uscito il suo episodio Ma andatelo a vedere Perché è veramente veramente bello L'ho appena guardato E ci sta un botto Ora senza spoilerare niente Mettiamo anche il suo regalino Piccone diamante con efficienza e tutto il resto E il libro con fortuna A questo punto glielo obbellisco anche con cose che ho trovato a caso Che ci sta Papà visto che Sei la talpa Eccoti Eccoti Un regalo Anima Bene con questa vista Mozzafiato è veramente bellissimo Il posto che ha scelto Giuseppe Direi che ce ne possiamo andare Torniamo a casa in qualche modo Io perlomeno non ho attraversato l'oceano come Surry Quindi dovremmo essere tutti più tranquilli Ma sapete che Mi ricordo addirittura Questa strada che abbiamo fatto Proprio è la stessa Secondo me siamo anche passati vicino allo spawn Me la ricordo proprio bene E sapete cosa che mi sa che proprio questo fiumiciottole È uno di quelli che ci porta a casa È poco illuminato Anche il portale c'è una televisione gigante Cioè è impossibile da non vedere Animali animale Con la spada di legno Questo video può concludersi qua Mi raccomando scrivetemi L'armatura di diamante Come andarla ad incantare Ci rifaremo anche la spada Grazie davvero a tutti per la visione Per il parto di questo video Sicuramente lungo Per tutte le persone che sono arrivate in fondo Siete migliori Vi potete scrivere al centro Guardare altri Due bellissimi video ai lati E noi ci si becca ad un prossimo video Stay angry Stay animals